Pochi giorni fa Rituvasa, la nostra associazione organizzazione ambientale, ha pubblicato dei dati molto preoccupanti in merito alla questione relativa all'inquinamento, visto che lei è stato anche un promotore in prima persona, per quanto riguarda battaglie ambientalistiche voglio sapere una sua idea. È sempre particolare discutere della salute delle persone, oggi siamo diventati tutti ambientalisti, quando ho iniziato io ci prendevano a sassate dicendo che eravamo i nemici degli operai, oggi invece anche gli uomini e le donne più impensabili ce li ritroviamo con gli striscioni e con i cartelli, credo che sia un bene, perché probabilmente la coscienza ambientale sia diffusa tra i nostri cittadini. I dati diffusi da Rituvasa e da Lugge, ho visto molti articoli in questi giorni sono dati preoccupanti, dati che conosciamo e dati che in qualche modo avevamo annunciato negli anni passati, perché conoscevamo la situazione di base della nostra città, credo che il monitoraggio non basta, è necessario per conoscere la verità, ma non basta e le nostre debbano essere azioni importanti, azioni importanti che fuggono, come dicevo prima, dalle ghiacchiere e passano ai fatti concreti, sia per quanto riguarda la dismissione e la chiusura definitiva della discarica di Collefagiolara, che deve essere fatta in tutta sicurezza, perché quel mostro non sia un problema per le generazioni future, io voglio che tutte quante le questioni siano scientificamente seguite e ambientalmente sicure, anche perché credo fortemente che il Comune di Collefere e il Comune di Paliano insieme possano ridare vita vera alla selva, sia per quanto riguarda la questione degli incendori dello scalo, noi abbiamo fatto tutte quante le azioni legali che un Comune potesse fare contro quegli impianti, io sono stato il primo Sindaco che ha fatto ricorso, che ha messo gli Avvocati, che combatterà questa battaglia fino all'ultimo e credo che questo la gente ce lo riconoscerà, ce lo riconoscerà fortemente perché nel momento in cui siamo scesi dai palchi, abbiamo occupato grazie al Consenso Popolare di Istituzione Comunale, abbiamo fatto tutto ciò che in nostro potere era possibile fare per garantire la coerenza della nostra azione amministrativa e la concretizzazione del programma su temi così importanti, io credo che ci vorrà tanto tempo, perché da un cancro molto forte si guarisce forse solo dopo cure molto pesanti, ma quando andrò via lascerò al Sindaco che verrà dopo di me una città molto diversa da quella che ho editato.